Amici, Giuseppe ha attaccato la carpa, veramente è la quarta che attacchiamo e non è venuta fuori neanche una, speriamo in questa, tirano come delle dannate, ne abbiamo già perse tre, ecco che si vede galleggiante ma picchia di brutto la canna è in piega, Giuseppe è tutto piegato e questa la tiriamo fuori però, questa la tiriamo fuori, come? vieni, 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 presa, aspecchi? aspetta un attimo ce la fai, che sono stata fuori ancora, aspetta che interro... amici, 4 kg di carpa aspecchi, eccola lì, gli diamo la libertà vabbè, lascia quattile di Bani... c'è altra carpa di Giuseppe è quasi sopra eh ha visto il galleggiante? eccolo qua il galleggiante però adesso puoi sforzarcele, è proprio sopra faccio vedere faccio vedere aiaiaia, sta riprendendo piazza è un timollo eccola qua sembra un po' più bella di là eccola lì reginotta aspetta devi prendere il guadino perché se no... un attimo ok ecco che facciamo la carta, 5 kg giusta questa eh oggi per ora ho preso 2 carpe Giuseppe e ne abbiamo perse 3 andato andato amici stiamo prendendo carpe e tutta roba sui 5 kg col terminale del 14 eh una fatica bestiale, ne abbiamo perse tante però quelle che vengono su sono... sono belle sudate eh vai Roby vai e uccidi vai e uccidi vai e uccidi vai e uccidi ragazzi Roby è attaccato all'ennesima carpa con terminale del 0,14 la carne è facile, tirarne fuori un po' meno ma tirarlo fuori ci vuole un attimo e metterlo dentro le fight addetlici l'ha sempre attaccata ragazzi forse questa viene almeno la cardi almeno la carpa sta arrivando un temporale e lui c'è ancora la carpa attaccata ragazzi si vede il galeggiante vieni a respirare l'aria buona vieni ecco la bella aspetta eh aspetta che faccio la ripresa guardino 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 ooooh vai la metto la testa solo volevo farti la ripresa ma sta ripresa ancora per il culo cacchio eh c'era già eccola mi spiace eccola qua eccola qua ragazzi ah che bella ragazzi ah che bella esemplare amici sempre 014 di terminale eh mitico robin cazzo mitico chi la dura la vince ecco ragazzi che lasciamo andare l'esemplare no sto riprendendo vuoi una foto qua aspetta ragazzi amici un'altra carpa da 5 kg oggi chiudiamo qua perché sta arrivando il temporale si gira ne ha preso due e io ne ho preso una e abbiamo perso 4 o 5 in tutto si girano le balle ma dobbiamo andare vai andata saluta agli amici ciao a tutti alla prossima ciao a tutti